Ciao a tutte e tutti, inizio con un ringraziamento che sembra scontato, ma non è, a tutte le compagnie e i compagni che garantiscono la possibilità di fare il camp. È ovvio, ma non è ovvio, quindi bisogna dirlo che per me e per noi è un onore venire a presentare il libro in un posto così in un'occasione del genere e lo capirete proprio anche dalla storia di come questo libro è nato, quindi ci sentiamo a casa in questi contesti, ci sentiamo a casa in un climate camp. È fondamentale che queste iniziative continuino, quindi grazie veramente a tutte le compagnie e tutti i compagni che si sbattono per far sì che si riesca a fare questo climate camp. Allora, siamo qui per presentare questo libro qua, Art for Radical Ecologies Manifesto, che è un libro uscito l'anno scorso per Bruno, che è un editore di Venezia, è curato da me, da Emanuele Braga, da Federica Timeto e da Gabriele Lariccio. Noi quattro siamo tutti membri di un collettivo internazionale che si chiama Institute for Radical Imagination, magari alcuni sanno già di cosa si tratta, molto brevemente, è un collettivo di artisti, curatori, attivisti, studiosi, attivi diciamo più o meno così all'intersezione tra arti e commons, cioè siamo persone che abbiamo qualcosa a che fare con l'arte, abbiamo un lavoro nel mondo dell'arte, ma abbiamo anche, come dire, una storia di attivismo e quasi tutti noi hanno anche una storia di attivismo e militanza alle spalle, non solo alle spalle, ma sono ancora dentro queste storie, e cerchiamo quindi di coniugare questi due aspetti nel lavoro che fa Liri. Una di queste cose è proprio quello di sforzarsi di costruire, di riflettere sul posizionamento che dall'interno del mondo dell'arte, appunto i lavoratori dell'arte, dovrebbero, potrebbero ottenere nei confronti della giustizia climatica, che è, se siete andati anche solo per caso a vedere una mostra negli ultimi 10-15 anni, è uno dei temi caldi, diciamo così, del mondo dell'arte contemporanea e non solo del mondo delle arti performative, del teatro, eccetera. Il problema è che molto spesso viviamo una condizione per cui gli artisti, i curatori, gli studiosi che si approcciano a questo fenomeno si approcciano in maniera, diciamo così, descrittiva. Il primo sforzo, quindi le prime urgenze di questo libro, è di dire non lavoriamo solo sulla giustizia climatica, non facciamo solo dei lavori, dei progetti a proposito del crime breakdown, della crisi climatica, ma cerchiamo di capire qual è il nostro posizionamento e come dobbiamo agire, in quanto lavoratori di un settore specifico, che è quello dell'arte, per fare in modo che si riesca a contribuire anche alle lotte sulla giustizia climatica. Quindi è un cambio di prospettiva, è un esercizio di posizionamento e poi anche di, come dire, di azione coerente con questo posizionamento che proviamo a mettere a tema in questo libro. E' anche particolarmente bello essere qui perché questo libro è davvero, ed è prova di quanto sto dicendo, è davvero nato all'interno del Climate Camp di Venezia del 2021, giusto? O 22? Adesso ho un attimo di dubbio, credo 2021, quando come IRI abbiamo scelto di convocare un'assemblea di lavoratori dell'arte all'interno del Climate Camp di Venezia e cominciare a confrontarci sulla necessità, appunto, di riflettere insieme su quale fossero le forme propizie dell'intreccio tra arte e attivismo climatico e da lì abbiamo iniziato quello che è stato per noi un lavoro di, diciamo così, di riflessione collettiva, di scrittura collettiva con l'obiettivo di scrivere un manifesto. Il manifesto è contenuto nelle pagine di questo libro, in questo bellissimo inserto a colori, trovato un inserto a colori con tutti gli articoli del manifesto, ci arriveremo subito, ma il primo tema è quello che si tratta di un libro che non è nato, pur diciamo così, parlando del posizionamento del mondo dell'arte, non è nato all'interno di musei, biennali o università, è nato all'interno di Climate Camp e di momenti di mobilitazione sociale. In particolare, se aprite il libro nelle prime pagine, vedrete diverse foto, ci sono anche due foto appunto del Climate Camp di Venezia, scusate non del 21 ma del 22, c'è la foto appunto dell'assemblea dell'IRI di Art for Radical Ecology che abbiamo fatto in quell'occasione e c'è la foto anche delle prove del lavoro performativo di Andreco che poi è sfociato nel fatto che alla marcia climatica, che era la Climate March che chiudeva il camp, avessimo avuto anche uno spezzone performativo all'interno della manifestazione. Quindi è chiaro che già questo dice su quali sono le nostre urgenze, su come l'IRI lavora. E quindi abbiamo iniziato con questo lavoro appunto di assembleare, di discussione, questo lavoro di discussione è poi diciamo andato avanti all'interno di mailing list con gli strumenti di cui ci siamo dotati per lavorare anche in remoto, è riprecipitato al Climate Camp dell'anno successivo dove ci siamo ritrovati, abbiamo come dire continuato quella discussione, ci siamo confrontati via più con tutti gli attivisti e gli attivisti che erano lì presenti e poi abbiamo chiuso con una terza assemblea live al World Congress for Climate Justice che invece si è tenuto a Milano l'anno scorso, è stato un evento grandissimo con delegazioni di attivisti climatici da tutto il mondo. Lì abbiamo chiuso con una terza assemblea live, poi abbiamo tirato le somme e il manifesto è il frutto di questo processo, di nuovo non è il frutto di un lavoro accademico, non è il frutto come dire di un lavoro artistico in quanto diciamo così, in quanto lavoro di un artista nel suo studio, di un curatore che fa una mostra, è veramente stato un lavoro politico, è stato un lavoro di internità ai movimenti, non ci sentiamo artisti che dicono dei movimenti, ci sentiamo lavoratori dell'arte che fanno parte di un movimento e questo sembra forse banale dirlo tra noi che siamo persone, come dire, use a fare militanza, a fare attivismo, essere in Climate Camp, ma credo che siano davvero pochi i prodotti di questo tipo, specificamente come dire, incardinati nel mondo dell'arte che hanno questa peculiarità di venire dall'interno di un movimento. Per fortuna ce ne sono e non è che noi siamo i soli, però questo ci tenevo a dirlo. Ci sono poi, voglio dire, magari qui la questione arte di per sé non interessa così tanto, ci può stare, ma crediamo che questo libro apra dei temi e possa essere un libro interessante da leggere anche semplicemente per un attivista climatico non necessariamente interno al mondo dell'arte, proprio perché ha questo carattere di militanza complessiva sul tema e poi interroga anche delle persone che per esempio non sono esattamente persone incardinati in quel mondo. Un nome su tutti, François Verge. C'è un'intervista che abbiamo fatto a François Verge che per esempio affronta il tema dell'arte della giustizia climatica da una prospettiva decoloniale e inquadra per esempio la questione palestinese. Dice che la questione palestinese è fondamentale per capire, come dire, il lato oscuro, per far emergere il lato oscuro di quello che lei chiama il modello liberale imperiale di democrazia, insomma, quindi diciamo quello delle nostre democrazie occidentali. Dal punto di vista del mondo dell'arte questo lato oscuro e questo lato intriso di colonialismo ancora fortemente problematico è emerso in maniera drammatica per esempio da quando il genocidio di Gaza è incominciato perché nel mondo dell'arte occidentale, europeo non solo, che si presenta come baluardo della libertà di parola, di espressione, eccetera, sono fioccate, letteralmente fioccate, le censure, le cancellazioni, la stigmatizzazione, l'attivazione della macchina del fango di tante voci di artisti e artisti palestinesi e di tante voci anche non palestinesi ma pro-palestina. Ricorderete, adesso siamo nei giorni della fiera del libro di Francoforte, il primo caso è stato proprio la cancellazione di un premio, il ritiro di un premio a una scrittrice palestinese, non perché questa scrittrice abbia detto chissà che, in quanto palestinese. O, per esempio, nel mondo dell'arte ha fatto molto scarpore una lettera che era stata pubblicata da un editore di Artforum che è il maggiore, diciamo così, periodico di arte contemporanea al mondo, questa lettera aveva accolto, come dire, questa lettera di condanna delle politiche sioniste del genocidio in corso a Gaza, questa lettera aveva raccolto infinite adesioni, cosa è successo? L'editor del giornale che l'aveva proposto è stato licenziato. Da lì si potrebbero dire, se ne potrebbero citare moltissimi di questi casi, casi che, per esempio, sono anche all'ordine del giorno in accademia, magari non in tutti i paesi d'Europa, ma di sicuro in molti casi. Ho corso troppo, vorrei lasciare la parola a Ema che magari comincia a darvi un prima, come dire, una prima panoramica di quello che questo manifesto dice. Grazie. Rinnovo i ringraziamenti anche a tutti i compagni e compagni che hanno organizzato questo Climate Camp. Dunque, non lo so, io prima di tutto volevo dire che questo libro, secondo me, proprio come oggetto e materiale, secondo me è molto bello. Quindi, no, ma non è per, ce ne abbiamo fatti tanti, non è per pubblicizzarlo in quanto prodotto. Cioè, veramente, secondo me, vi invito a pigliarvelo, a leggerlo in modo approfondito. I contributi sono tanti e molto diversi, anche dal punto di vista del take di ognuno. secondo me è un bell'archivio, quindi anche come strumento vi invito proprio, se siete interessati o se vi suona un po' l'operazione, proprio a usarlo come strumento. Due parole sulla struttura di questo manifesto e anche dei contributi poi, dei vari capitoli che ci stanno dietro, che in qualche modo sviluppano un po' l'articolazione del manifesto. In generale, giusto per darvi una panoramica, noi ci siamo sempre detti nella costruzione e nella coscrittura che sostanzialmente ha tre parti. Una prima parte posiziona un po' più da un punto di vista teorico il rapporto fra produzione artistica e approccio radicale all'ecologia. e quindi sostanzialmente abbiamo discusso in tanti di questi assemblee camp con artisti teorici e attivisti di che ruolo ha l'arte all'interno di questo collasso globale in cui siamo dentro e due grossi come colossi abbiamo visto un po' fronteggiarsi nel dibattito culturale, teorico. Era sotto gli occhi di tutti negli ultimi, soprattutto anche dieci anni, pre-onda, ultima onda verde da Greta 2018-2019 fino ad oggi. Quindi quei 4-5 anni che hanno riscaldato quella nuova accensione e poi quello che è arrivato dopo. A noi ci è sembrato che da una parte, forse sotto gli occhi di tutti, che effettivamente dal punto di vista della produzione culturale, intendiamo musei, mostre, curatele, da il piccolo centro alle grandi biennali, documenta, eccetera, eccetera, l'impatto, diciamo, di un movimento teorico che potremmo riassumere sotto il cappello dei nuovi materialismi, dove una critica fortissima all'antropocentrismo, al colonialismo specista, dove l'umano colonizza il resto della natura, storicamente, da il 600 sicuramente alla nascita del capitalismo, e in particolar modo il 900 modernista. Questi grossi nomi che hanno lavorato per decostruire questo approccio, che in pratica vogliono dire, per esempio, nomi anche come Donna Haraway, tutti i femminismi dei nuovi materialismi statunitensi, Bruno Latoura, anche, e questo tipo di blocco, ha sicuramente avuto un impatto grosso sulle produzioni culturali e artistiche, anche dal punto di vista estetico. Non c'è praticamente mostra dove, in qualche modo, la messa in discussione dell'uomo colonizzatore e su un gradino superiore, rispetto al resto della natura, che porta il pianeta al collasso e alla morte, alla seticemia, e invece un nuovo immaginario generativo, dove, in modo, in ottica antispecista, in ottica non coloniale rispetto alla natura, noi ci riconosciamo interdipendenti con il resto degli esseri viventi e anche non esseri viventi. Quindi un nuovo immaginario sul rapporto fra umano e non umano è arrivato nei musei, anche al limite di diventare una moda, anche al limite di sostanzialmente in qualche modo essere estetizzato. Per parlare in modo più diretto, è chiaro che negli occhi di tutti noi, credo, ci siano ormai immaginari un po' vaporwave di broccoli con gli occhi che camminano e octopus che vengono messi nei manifesti o funghi che crescono dappertutto in cui noi possiamo unirci in un corpo more than human. Ok? Questo, nei suoi pregi e nei suoi difetti, è chiaramente una cosa che è atterrata. Ok? Dall'altra parte, invece, c'è un blocco teorico che è più forse vicino alla storia dei movimenti e alla storia anche dei materialismi storici, dove sostanzialmente la critica è stata più focalizzata sui reali rapporti di forza, dove non c'era più tanto il problema dell'antropocene, ma più intensivamente il problema del capitalocene, ok? Dove è la struttura economica, sono i rapporti di forza industriali e sociali, che determinano il collasso climatico, ok? Per esempio, parlavamo prima, sicuramente Andrea Smalma, per citarne uno, è una voce di questo blocco, che in qualche modo ispirava Ende Gelende in Germania come movimento, ma anche sostanzialmente gran parte dei movimenti e dell'attivismo veramente conflittuale ha più in mente di fare azione diretta, conterposizione sull'industria del petrolio, conterposizione sulle grandi opere che distruggono il territorio, rivendicare l'accesso all'acqua, coniugare la giustizia climatica con quella sociale, eccetera, eccetera, ok? Allora, a noi c'è parso nelle discussioni, non la faccio troppo lunga, che questi due blocchi che ho citato in qualche modo non si parlassero tanto, anzi, in qualche modo certe volte parlano male uno dell'altro, i primi dicono che gli ecottivisti sono un po' old school e non hanno forza immaginativa, generativa e sono un po' ingabbiati in uno sterile attivismo vecchia scuola, i secondi dicono siete solo di radical chic, depoliticizzati, non guardate i veri rapporti di forza e vi perdete nella vostra creatività sterile per banalizzare diciamo una polarizzazione fra questi due blocchi. Allora, in questo manifesto nella prima parte abbiamo ragionato molto come in realtà la nostra il nostro punto di vista era volto in realtà a farne una sintesi di queste due strade. Cioè, non è vero come per esempio però sono state posizioni di Malm che riconoscere il non umano come agente come un attore al fianco nostro come c'è scritto qua i boschi che resistono sono un soggetto agente in valle c'era noi siamo la natura che si ribella che era uno slogan ripreso dal sull'avvento della terra e dalla primavera dell'anno scorso in Francia cioè disconoscere che ci sia una natura agente secondo noi è sbagliato e questa è la posizione anche di questo manifesto dobbiamo recuperare quel discorso dei nuovi materialismi chiaramente disconosciamo nei nuovi materialismi il fatto che perdersi in una estetizzazione del non umano troppo estremo effettivamente corre il rischio di depoliticizzare il nostro ruolo ok quasi pensando che allora fa tutto la natura no o allora le nostre categorie politiche non valgono niente sono quasi dovremmo perderci nel sublime ascolto di quello che il linguaggio della natura oltre l'umano sta disegnando per noi che sono per esempio posizioni che per citarne un altro in cui è un po' finito per esempio Timothy Morton con questa filosofia sull'iperoggetto eccetera eccetera allora ritornando a bomba noi diciamo dobbiamo recuperare una rinnestare questo riconoscimento decolonizzato del rapporto fra umano e non umano riconoscendo un ruolo della natura agente però riposizionandolo all'interno del conflitto sociale e dei reali rapporti di forza ok questa è l'operazione della prima parte del manifesto poi magari se volete discuterne ne discutiamo ma se vado oltre ci addormentiamo tutti credo quindi questa è la prima parte la seconda parte è appunto riconoscere attraverso le storie dei movimenti quali sono qual è questo soggetto ricomposto allora chi siamo noi chi siamo noi come soggetto in lotta e allora cerchiamo nei vari articoli di riposizionare per esempio quello che le lotte indigene stanno dicendo quello che la storia del femminismo e transfeminismo sta dicendo sulla ricomposizione di questo noi quello che anche la storia dell'attivismo più relativo all'antispecismo e alla liberazione animale sta dicendo su il ruolo del non umano all'interno di questa lotta radicata su un'attenzione politica a scardinare i reali rapporti di forza ok la terza parte è più una call to action cioè ci siamo anche domandati al di là della teoria al di là di come componiamo e assembliamo soggetti e intersezioni però poi cosa facciamo ok e qui si ritorna anche molto al ruolo della cultura e dell'arte e quindi ritorna per esempio questa istituzione artistica in cui lavoriamo i musei le istituzioni culturali in occidente in questo progetto politico in cui siamo sono riformabili o sono da abolire come tutto il movimento per esempio statunitense sta dicendo oppure la questione la questione che dai movimenti è molto presente soprattutto quelli Just a Poil e anche End of the Land quelli europei ma anche e a Cop in Africa la questione del boicottaggio e della fine del consumo di fonti fossili no? è centrale anche nella produzione culturale per esempio anche nell'università sappiamo benissimo che quante lotte abbiamo fatto contro l'ENI che è dentro nell'università che è dentro nella filiera delle produzioni culturali anche in Europa tanti musei dalla Teita allo Stedelijk eccetera eccetera gli attivisti artisti hanno cercato di svuotare i board e la donor economy e l'economia che sta dietro alle istituzioni culturali di questi grossi legami che hanno con l'industria del petrolio perché poi condizionano anche la nostra produzione culturale allora per esempio nell'internazionale stavamo discutendo si potrebbe chiedere a tutte le grosse istituzioni culturali in Italia in Europa che ci circondano di 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 slegarsi da questi da questi condizionamenti e legami con l'industria del petrolio dal punto di vista economico potremmo inventarci degli degli scioperi in in forma di artisti e lavoratori culturali per cui non vogliamo lavorare in quelle istituzioni se sono legati a quel tipo di investimenti così adesso siamo stati due settimane e finisco per lasciare parlare magari più il cerchio siamo stati adesso due settimane in Palestina e anche come istituto practical imagination abbiamo trovato lì un discorso molto acceso sulla stessa questione della filantropia tossica e della donor economy soprattutto le istituzioni culturali della West Bank e in generale della Palestina adesso Gaza praticamente è rasa al suolo però alcune istituzioni anche che arrivano da Gaza rifugiate in West Bank si sono trovate dopo il 7 ottobre ad avere forti condizionamenti rispetto a tutti quelli che gli danno finanziamenti su il loro posizionamento politico cioè dovevano sottoscrivere accordi per ricevere i finanziamenti da comunità europea Rosa Luxembourg Foundation Open Society Soros Ford Foundation le solite grosse mondiali hanno cominciato a dirgli non vi diamo più i soldi se non sottoscrivete di essere contro il terrorismo che per loro vuol dire resistenza o fare audit interno per denunciare i propri lavoratori se sono puliti o meno eccetera eccetera a questo punto loro hanno detto non ci stiamo e hanno fatto una coalizione che si chiama ONE che vuol dire solidarietà e hanno ricostruito e rinfrastrutturato alleanze fra di loro per poter rifiutare questi fondi e costruire dei fondi comuni chiedendo ai donor di non chiedere condizioni ok e di essere puliti dal punto di vista della filiera in cui sono dentro allora per esempio anche dal punto di vista dell'attivismo culturale stiamo pensando perché anche in Italia e in Europa non possiamo aprire una discussione su il modo in cui le banche i grossi finanziamenti che anche sono molto spesso innervati nelle istituzioni pubbliche o semplicemente anche pensate a tutta la bandistica che dobbiamo fare delle varie fondazioni eccetera chiediamo che siano pulite dal punto di vista di chi ci sta dietro basterebbe per esempio appunto chiedere che non abbiano affiliazioni con industria del petrolio industria delle armi sembra una banalità ma in realtà stiamo cominciando a conversare anche con grosse istituzioni tipo l'altra settimana cominciavamo a indagare per esempio il MACVA di Barcellona o grandi istituzioni e strabuzzano gli occhi al cielo perché non andrebbero avanti cioè come hanno fatto anche gli studenti nelle campade adesso sia negli Stati Uniti che in Europa se vai a vedere chi ci sta dietro le sigle che stanno dietro ai grossi board d'amministrazione e ai finanziamenti dell'industria culturale e educativa dell'Occidente sono veramente non tanti nomi nell'organigramma se sali e sono sostanzialmente le grosse holding che fanno riferimento al mercato delle armi e dell'energetico e del fossil fuel quindi per esempio ragioniamo in un punto uno degli ultimi punti del manifesto perché non potremmo lanciare una campagna contro questa filantropia tossica che sta dietro e condiziona nel laboratorio palestina come ci insegnano ma anche in occidente su il modo in cui noi produciamo in questa cosa che anche ci insegnano molti palestinesi al di là dei momenti aggressivi anche in un lento addomesticamento ok in un lento abituarsi a non dire no e quindi a no a aggiustare il tiro a non superare una certa soglia adeguare magari quel contenuto che pensavi indipendente a una cosa un po' più no che non fa male a nessuno nel 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 sentiero in cui hanno capito che va bene fare eccetera eccetera no non ho detto tutto però forse sono stato ho detto le cose che mi interessavano di più l'ultima cosa giusto per dare un altro spunto che pensavo adesso guidando verso di qua c'è il contributo e la discussione per esempio che è abbastanza chiara nel capitolo di intervista a François Verge che citava prima Marco ieri guardavo le testate giornalistiche italiane con questo caso del ministro della cultura e tutta questa vita personal corruzione e una foto dove sul red carpet a Venezia c'era la richiesta di stop al genocidio palestinese arrivata da chat telegram ho cercato sulla stampa italiana praticamente nessuno ne parlava no nessuno ne parlava anche questo tipo di occupazione con un messaggio politico di un grosso palco istituzionale rispetto anche alle cose che facevamo vent'anni fa a me faceva pensare come quanto si sia ristretto il campo del poter incidere o interferire nel dibattito pubblico mainstream con azioni dirette o con anche testimonianze di questo tipo della forza lavoro della festival del cinema eccetera eccetera e invece la chiusura mediatica e la censura che anche dopo il 7 ottobre si è instaurata in Europa c'è veramente un grosso blocco nello stesso tempo guardavo telegiornali e giornali dove la nomina del primo ministro da parte di Macron quasi era in ultima fila ok anche lì cioè dopo la primavera che c'è stata l'anno scorso in Francia la saldatura fra giustizia sociale e lotta ambientale che ha concluso e poi anche la discesa delle balliere elezioni che hanno espresso come primo partito la coalizione di sinistra in ottica antifascista eccetera eccetera in risposta a Macron che dà la conduzione a un repubblicano di destra giusto per dire quando la Verge dice che il progetto democratico in sé è un'istituzione coloniale non riformabile a me vengono in mente tutti questi esempi dove veramente al di là della distopia totale che io ho visto in Palestina due settimane fa da tutti i punti di vista del progetto coloniale anche lì ma comunque dal punto di vista istituzionale cioè i settlement in West Bank sono dichiarati occupazione illegale Netanyahu è dichiarato criminale di guerra arrestabili in mezzo mondo e noi Italia e Stati Uniti non battiamo ciglio a sostenere questa cosa ok e dal punto di vista anche lì mediatico culturale discorsivo non c'è praticamente incrinatura ok leggevo con sorriso un post di Franco Bifo ieri che diceva nella festa del PD di Bologna di questo weekend non c'è niente riguardo alla Palestina e a quello che stiamo facendo a due passi ok non c'è proprio nell'agenda della discussione per dire come appunto la porta in gioco si sta veramente alzando perché lo spazio in sé proprio del progetto su cui si basa un po' il nostro frame istituzionale sta mostrando proprio la sua vera faccia questo è un altro tema che appunto dal punto di vista dell'attivismo US negli ultimi anni da almeno Black Lives Matter in poi è stato proprio esplicitamente trattato in modo definitivamente non recuperabile ok tutto questo tema dell'abolizionismo dice noi questo tipo di frame istituzionale è nel suo DNA il progetto coloniale che stiamo vedendo non è riformare non è che lo possiamo fare un po' meglio lo possiamo sindacalizzare in meglio è proprio da destituire dall'altra parte appunto noi arriviamo come e qui concludo scusate dalla storia appunto anche dei commons di questo comune da generare insieme dall'altra parte queste infrastrutture alternative anche come questa di O&A in Palestina o quello che stiamo facendo qua parlano invece di un progetto anche costituente di un'alternativa no la call to action di questo manifesto credo che stia all'interno di queste possibilità sì ma è chiaro è anche l'importanza dei climate camp l'importanza dell'infrastruttura di movimento l'importanza dei centri sociali che a volte sembra quasi un'esperienza che appartiene al passato alla luce di questo imbarbarimento diciamo così chiamiamolo così del progetto democratico liberale che sta sempre più appunto lasciando trasparire la sua faccia più violenta più coloniale più repressiva pensate anche come dire ai passi indietro che sono stati fatti rispetto alle politiche sul clima da quando siamo dentro questa fase di guerra di economia di guerra pensate all'Unione Europea ai passi indietro che l'Unione Europea sta facendo sul Green New Deal che già non era sufficiente ma dentro come dire nella presa nella morsa dell'economia dell'economia di guerra ecco se guardiamo al movimento afroamericano decoloniale e ne come dire ne impariamo le le logiche abolizioniste cioè se diciamo non è più riformabile cosa ha sempre detto il movimento climatico il capitalismo non è riformabile rifiutiamo il capitalismo verde però il lato B se uno legge Abolition Democracy di Angela Davis se uno va ancora più indietro e legge i lavori sull'abolizionismo di un marxista nero come C.L.R. James che cosa che cosa che cosa vede che certo lo schiavismo non è riformabile e infatti è stato abolito le pantere nere negli anni 60 dicevano le prigioni non sono riformabili e quindi vanno abolite e ancora oggi c'è tutto un attivismo contro diciamo così quello che viene chiamato negli Stati Uniti l'industria carceraria di massa oggi addirittura si dice che i musei non sono più riformabili perché i board of trustees chi comanda i musei i board of trustees sono pieni di capitalisti miliardari troppo diciamo così troppo complici di imprese anche lì coloniali fossili inquinamento eccetera eccetera ma quello che ogni discorso abolizionista dice se noi dobbiamo abolire qualcosa dobbiamo anche rifondare il tutto e come si rifonda il tutto questa è la grande sfida è chiaro che non è una cosa che possiamo risolvere noi qua attorno a un cerchio di panche però se quelle strutture lì non funzionano più noi dobbiamo credere nelle altre strutture che implementiamo a cui diamo vita dobbiamo vederne tutta la centralità ok qui anche una certa secondo me una certa visione un po' di comodo sull'abolizionismo che dice facciamo solo la parte destituente l'abolizionismo è sempre istituente ma non lo dico io lo dicono i movimenti afroamericani lo dicevano e lo facevano le black panthers lo dice Angela Davis lo diceva negli anni ancora 40 James per esempio allora in questo senso tornando ai nostri piccoli sforzi dopo che abbiamo chiamato in causa questi titani in questo senso il prossimo piano di IRI esattamente è quello di lanciare cosa? quello che diceva Emanuele una campagna che sia un percorso di investigazione sulla filantropia tossica che abita le istituzioni culturali e artistiche perlomeno a livello europeo e fare però in modo che questa campagna investigazione alluda cosa? alluda anche un controspazio e i controspazi dove ce li andiamo a inventare? ce li andiamo forse non ce li dobbiamo inventare forse ce li abbiamo già questo è un controspazio in senso però nobile è uno spazio che funziona secondo altri criteri è uno spazio che è non neoliberale è uno spazio in cui le logiche di relazione sono diverse da quello che troviamo nelle istituzioni non liberali è uno spazio che dà un certo messaggio eccetera eccetera allora questo tema questo tema della creazione di nuova infrastruttura sociale è un tema se vogliamo in qualche modo antico rispetto ai movimenti ma che noi abbiamo anche ritematizzato chiamandolo con un termine che è quello di altre istituzionalità cioè questa idea di altre istituzioni e poi siccome cerchiamo di essere meno massimalisti e meno celtroni possibili proviamo anche a vedere se in questo sforzo interistituzionale ci sono delle istituzioni ancora diciamo così ufficiali che possono essere alleate di questo sforzo che non catturino come dire tutta la come dire che non educhino che non educhino che non ammansiscano che non catturino che non addomestichino diciamo così le pratiche gli immaginari i discorsi radicali che vengono dagli artisti dai movimenti da chi si mobilita ma che siano e li trasformino in una merce culturale perché poi questo è il grande problema e non li trasformino in una merce culturale ma che creino delle alleanze per davvero trasformare la società in senso radicalmente ecologico decoloniale dei commons chi più ne ha più ne metta questo è un po' lo sforzo che vogliamo fare e lo facciamo sempre diciamo così dentro e fuori le istituzioni dell'arte e i movimenti cercando anche di aprire le istituzioni dell'arte poi ai movimenti se possibile chiudo tornando al punto di partenza che citava Ema il tema del come dire del dialogo tra nuovi materialismi e materialismi storici questo per esempio fa parte non è una cosa anche qui che ci siamo inventati noi fa parte per esempio della riflessione di un movimento che è anche qua presente qui sulle Vande la Terre cioè per esempio ci sono due studiosi Antoine Chapeau e Elena Ballot che sono vicine sulle Vande la Terre che hanno scritto questo libro che si intitola Noi non siamo soli non ne sono pas seul e Ballot ha anche scritto come dire degli articoli che sono stati tradotti in italiano dove dice dove tenta recuperando l'arsenale operaista di inserire all'interno dell'arsenale politico operaista elementi di nuovi materialismi cioè il fatto di tenere in conto l'agenzialità della materia quello che dice in due parole è se il metodo operaista ci ha insegnato a guardare la composizione di classe a studiare la composizione di classe per capire dove intervenire politicamente socialmente per capire quali sono i soggetti rivoluzionari dove e chi può operare una rottura dell'ordine capitalista la Ballot dice anche un'altra cosa dice oggi è tempo di unire alla composizione all'analisi della composizione di classe tecnica e politica quella che lei chiama la composizione ecologica della classe perché altrimenti non riusciamo a inquadrare davvero il capitalismo in quanto ecologia e oggi se diciamo che c'è una crisi climatica e se diciamo che il capitalismo è responsabile di questa crisi climatica allora è ovvio che dobbiamo pensare al capitalismo non solo come a una serie di rapporti di potere tra umani ma una serie di rapporti di potere che come dice Jason Moore mettono al lavoro anche la natura lavoro a buon mercato della natura allora la composizione ecologica serve per capire da una parte la composizione tecnica come il capitale mette al lavoro la natura non umana la materia il più comano e come questo più comano si ribella ok fa l'esempio per esempio di alcune erbacce che negli anni sono diventate resistenti ai come si chiamano ai diserbanti che mettono nei campi di soia OGM che ovviamente sono pezzi di terra legati all'esproprio soprattutto di popolazioni indigene nel sud del mondo e però Balot non è matta dice è chiaro che non può essere l'erbaccia il soggetto della politica è chiaro che l'erbaccia o la specie protetta di uccello non ha una coscienza di classe non si soggettiva e noi non ci possiamo soggettivare per loro però possiamo fare quelle che lei chiama alleanze terrestri o meglio resistenze interspecifiche e fa sempre l'esempio di questo caso studio di questa erbaccia che soprattutto cresce in Paraguay e Argentina e dice quando gli attivisti gli agricoltori attivisti i movimenti indigeni attivisti per la giustizia climatica hanno capito che questa erbaccia resiste ai diserbanti che danno sui campi di OGM per far fruttare la soia OGM cosa fanno hanno fatto hanno imparato a fare delle bombe di semi a buttarle nei campi così in qualche modo questo dice si amplifica questa resistenza e si crea quella che lei chiama un'alleanza intraspecifica al di là del singolo caso il tema secondo me è quello davvero di inserire l'analisi della composizione ecologica sembra scontato ma non è davvero così cioè da una parte i nuovi materialismi così popolare nel mondo dell'arte sono molto bravi sono molto preparati a fare questo tipo di ricerca sono molto bravi a lavorare politicamente sulla materia ma si dimenticano totalmente la materialità dei rapporti di potere tra umani al contrario se diciamo un approccio più classicamente o anche non classicamente un approccio marxista e poi marxista militante come dire rifiuta in toto il tema che la materia non umana ha una sua agenzialità difficilmente riuscirebbe a analizzare questa composizione ecologica non si tratta di dire la lontra fa la lotta si tratta si tratta però di dire laddove è possibile come resiste la natura non umana in quanto attivisti climatici in quanto persone che guardano al capitale come ecologia non accontentiamoci come dire di dire la lontra è un'agenzialità non accontentiamoci di dire gli alberi fanno delle cose cosa possiamo fare con loro contro il capitale ok questo è un po' il tema che riprendendo l'arsenale operaista Balot prova a proporci e poi Antoine Chopin nel loro libro che tra l'altro è molto interessante prima o poi li dovremmo invitare anche a discutere con noi ecco questa era un po' quello che volevo dire c'era un'ultimissima cosa che non ricordo ma credo che possiamo aprire alla discussione se ci sono domande o semplicemente interventi se poi mi viene in mente prego io mi chiedo come attivista ecoclimatica tornando rispetto al tema della comunicazione di cui parlava Emanuele un po' di tempo fa cosa dobbiamo fare rispetto al nostro modo di comunicare nel senso che è un po' uno schiavismo in tutto l'attivismo questa augurarsi di aumentare la propria partecipazione e quindi cercare di infrangere diverse barriere di repressione ed entrare nell'interno delle notizie mainstream e quindi mi chiedo dovremmo continuare in questo tentativo che ci porta poi a agire in determinate maniere cercando di essere sempre più provocatorie di cercare di capire come ragiona la comunicazione mainstream per entrare nei suoi canali oppure dovremmo creare una controcomunicazione che è diverso da controinformazione perché si parla proprio dei mezzi attraverso cui la controinformazione viene diffusa e certo questa seconda opzione si rifà un po' al appunto come avete detto a quest'idea di incompatibilità capitalista con i nostri obiettivi quindi dire la comunicazione mainstream è all'interno del sistema capitalista e quindi noi la rifiutiamo ma significa anche rischiare di chiudersi in una bolla e quindi di perdere partecipazione piuttosto che aumentarla quindi mi chiedo quali strategie noi possiamo mettere in atto per aumentare questa partecipazione senza dover essere sempre costantemente alla ricerca di uno spazio sulla prima pagina penso che sia un tema un po' per tutto a livello più o meno locale o nazionale domanda difficilissima spero di di poter dire qualcosa di interessante riguardo la mia sensazione è che un primo punto è non lasciarsi esaurire sanno tutti cioè io credo che un punto centrale è che siamo già tutti molto esausti e esausti e anche chi sta dall'altra parte lo sa mi faceva impressione stando nella campada di Milano in statale che era molto grossa arrivata a 150 tende prima dell'estate a un certo punto la sensazione è che il rettore dicesse andate avanti vediamo finché resistete tanto io non mi muovo da questa stralcia dell'accordo con la Reichman ne provo tante anzi non sono neanche così tanto respingente capisco ma ho le mie difficoltà andiamo avanti a capire e piano piano si sapeva che entrava in agosto era molto caldo il semestre stava finendo eccetera eccetera quindi quasi il ricatto era io posso andare avanti e so benissimo che reprimervi sarebbe un backlash per me sarebbe un boomerang quindi senza dirvelo troppo in faccia però la mia sensazione era investo sul vostro esaurimento perché tanto io non mi sposto più di tanto non sono neanche così tanto respingente alla fine non mi muoverò ad un passo però questa roba a un certo punto non ce la fate più così è un po' anche nella dinamica di Just a Poil ultima generazione che forse hanno lavorato più dal punto di vista mediatico negli ultimi due o tre anni quando la controparte non si sposta e tu con lo stesso cercando di avere una costanza nei blocchi nelle azioni eccetera eccetera per tenere banco dal punto di vista mediatico poi fai il decreto ad hoc gli fai perdere sempre di più terreno sul piano giudiziario continui a a a fare i fermi eccetera eccetera a un certo punto si esaurisce si esaurisce proprio la forza vitale e quindi dal punto di vista comunicativo io credo che e poi è chiaro che dopo io mi sono occupato un po' di anche impatto un po' del digitale sul sociale eccetera eccetera è chiaro che uno dei temi da punto di vista accademico più in cui sono tutti concorde è che dal digital in avanti l'obsolescenza dei contenuti diventa sempre più breve e per cui la necessità di contribuire all'infosfera è dannatamente no faticosa se vuoi incidere e uscire dal tappeto del del già visto o della ridondanza allora rifletterei su queste cose come 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 non non farsi esaurire come non stare nella ridondanza come creare archiviazione per esempio sempre in Palestina contro la 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 cancellatura delle piattaforme social statunitensi dei post per archiviare che sono anche il deposito del di ciò che sta succedendo a Gaza e della storia futura di questo genocidio le piattaforme proprietarie del comparto industriale americano cioè Meta X eccetera eccetera continuano a cancellare i post per censura algoritmica e per esempio l'Institut for Palestinian Studies a Ramallah ha una batteria enorme di ricercatori e attivisti che stanno prima che vengano cancellati downloadando su server autonomi quello che sta succedendo allora per esempio anche il tema del come costruire infrastrutture autonome sulla comunicazione che possono rendere giustizia anche in un tempo medio-lungo contrario a questa obsolescenza velocissima no la nostra ragione anche questo è un altro tema secondo me che sta diventando sempre più importante su come contrastare le regole imposte da questa infosfera ok dall'altra parte anche come incidere in questo libro per esempio noi abbiamo invitato Yes Man e Pussy Riot con questo progetto Barbie Liberation Front dove per esempio nell'ottica del subvertising è uscito il film di Barbie ha scassato tutti i botteghini in giro per il mondo eccetera facciamo un'operazione di deturnamento di di questa figura e hanno lanciato queste Barbie eco-warrior in versione eco-attiviste che però hanno fatto dal punto di vista del mainstream hanno ottenuto botte in modo virale allora capire come incidere da un punto di vista virale senza lasciarci esaurire per esempio voi a Venezia XR quando avete fatto i canali verdi per esempio quella roba lì ha bucato allora la mia sensazione è anche farne meno ma farne più incisive nel momento in cui voglio bucare essere più coscienti di questa dinamica lavorare per esempio per il tempo che hai più sull'archiviazione autonoma per avere dei luoghi in cui si può sedimentare invece quello che stiamo costruendo come discorso e come corpo e dall'altra parte secondo me non lasciarsi esaurire perché siamo esausti ma combattivi ringraziamo grazie mille dell'attenzione se vi interessa il libro scusate noi non abbiamo portato copie ma sicuramente si trova a Venezia nella libreria Bruno che anche l'editore o online ovviamente si trova grazie grazie mille buon camp grazie mille 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 grazie mille